I chiarimenti ulteriori, caso mai ce ne fosse bisogno, sull'abbattimento di 240 alberi di ulivo in un terreno di proprietà privata alla periferia di Trani per far posto ad un deposito di materiali arrivano dall'assessorato all'ambiente. Il comune non ha competenza sull'autorizzazione all'estirpazione delle piante rilasciata, come avevamo già riferito in un precedente servizio, dal Dipartimento Agricoltura, Sviluppo Rurale e Ambientale della Regione Puglia, a cui si era rivolto a fine luglio il proprietario del fondo, che ha una destinazione urbanistica di tipo industriale. Al comune chiariscono è stata protocollata solo una scia, segnalazione certificata di inizio attività sulla quale non c'è alcuna valutazione politica. Alla documentazione è stata legata la relazione di un agronomo che spiega come ad alcuna delle piante presenti in oltre tre ettari di terreno può essere attribuito il carattere di monumentalità ai sensi della legge regionale del 2007 per la tutela e valorizzazione del paesaggio degli ulivi monumentali della Puglia. Inoltre si tratta di alberi che da anni non producevano frutti, per la gran parte secchi e malati, motivo per il quale non viene prescritto di reimpiantarli non possedendo il proprietario terreni idoni. Il comune chiede al privato un atto cosiddetto di mecenatismo ambientale. Il comune quello che può chiedere al proprietario è quello di adottare un'area verde comunale e donare alla città degli alberi, non gli stessi alberi, ma altri alberi per il decoro urbano e per l'ambiente.